Siamo orati Gesù e Maria. Sempre siamo orati. Questa è la seconda messa prevista dal messale mariano per il tempo masquale, che si intitola Maria Vergine, fonte di luce e di vita. È una messa bellissima perché ci porta a una relazione molto particolare che la Madonna ha con Cristo, che abbiamo sentito nel Vangelo, che si è definito lui stesso. Io come luce sono venuto nel mondo. Quindi Gesù, luce, il cielo pasquale che brilla nel tempo di Pasqua nelle nostre chiese. Ma noi sappiamo che Gesù ha anche detto di se stesso, io sono la via, la verità e la vita. Quindi Maria, fonte di luce e di vita, vuol dire comprendere la particolare relazione che la Madonna ha con Cristo luce, quindi che illumina e che va accolto con la fede, e con Cristo vita, che è l'alimento delle nostre anime. Cristo sappiamo che è luce del mondo con la sua parola, con il Vangelo, che ci illumina e ci svera la verità e il bene. E quindi noi non possiamo dire di essere nella luce se non ci lasciamo illuminare dalla parola di Gesù, che dobbiamo conoscere e accogliere. Invece Cristo è vita delle nostre anime come? Attrattare i sacramenti, perché la vita dell'anima dipende dal rapporto con i sacramenti. Infatti l'altro Vangelo che si poteva leggere oggi, in questa stessa messa, era quello di Nicodemo, dove Gesù spiega che per entrare nel regno di Dio bisogna rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, cioè bisogna essere battezzati e sapere che il battesimo è il primo dei sette sacramenti che notano la nostra anime. Significa che Maria è fonte di luce e di vita. Vuol dire che la luce che Cristo è e la vita che Cristo dà, la Madonna, anzitutto, li ha vissute e li conosce molto bene e ci può mettere in contatto con esse. Chi è Maria Santissima? Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo dice, a un certo punto, chiamano Gesù e dice, guarda un po' che c'è stata tua madre fuori con i tuoi parenti che ti vogliono vedere? Gesù risponde, mia madre. E chi è mia madre? E poi dice, chiunque ascolta la parola di Dio, la mette in pratica, è mia madre. E Gesù non sta mancando di rispetto alla madre, ma sta dicendo, guardate che questa donna è diventata mia madre, perché nessuno come lei conosce tanto bene la parola di Dio e tanto meglio la messa in pratica, capite? Quindi, chi si avvicina alla Madonna, insegno nei messi di spirito, da lei viene impercettibilmente, gradualmente portata a comprendere quello che Gesù dice e a fare quello che Dio vuole. Anche le persone che sono senza cultura in alfabeto non fa niente. Sapete quanti santi, tra i nostri nonni e le nostre nonne, spero anche qua, sono diventati santi, essendo in alfabeti e soltanto perché diceva lo rosario? La padrona di Latina, Santa Maria Corretti, era analfabeta. Sapete quanti santi, i pastorelli di Fatima, erano analfabeti. Ma quest'anno, Papa Francesco, del 13 maggio saranno dichiarati santi, sono già beati, capite? Non serve la cultura, serve una grande apertura di fede. La Madonna, chiunque trova un po' di fede, lo prende per mano e lo porta, anche se è ignorante, non fa niente, a comprendere le cose celesti e a fare quello che Dio vuole. Questa è la prima cosa che fa. La seconda cosa che fa, Maria Santissima, avete visto in tutte le apparizioni, già lo ho detto tante volte, che cosa fa dovunque appare? Ma che ha fatto a Fatima? Dice, fate costruire una cappella. All'Urd, fate costruire una cappella. Fa sempre costruire un luogo sano. Capite? Che cosa avviene nei santuari mariani? Sapete quanta gente che io ho conosciuto? Ora va molto di moda Međugorje, perché è l'ultimo. Voi sapete quanta gente, ma guardate, gente che era un po' lontana da Dio, non conosce tanti. Va a Međugorje, fumo. Gli prendono i cinque minuti, va a confessionare a Međugorje, se confessa tutti i peccati della vita, ritorna in un'altra persona. Ecco in che senso è fonte divina. Cioè, prende quella persona immediatamente, impercettibilmente, lo prende quasi per mano, proprio come una mamma, e lo porta dentro il confessionale. Perché se quella ha avuto una vita lontana da Dio, la prima cosa che deve fare è se deve confessare. E poi la porta a Messa. Fa queste due cose. Voi sapete che la Madonna ogni volta si celebra la Messa, è presente sempre. Nessuno come la Madonna, tanto quanto la Madonna ama la Messa, perché sa che la Messa è il contatto con Gesù, che è la vita. Capite? Un'anima mariana è sempre un'anima grandemente eucaristica. E poi dobbiamo pensare anche un'altra bella cosa, e poi concludo. Noi facciamo la comunione, giusto? Nella Santa Eucaristia, Gesù è presente attraverso il suo corpo, nel pane, e il suo sangue, nel vino. Domanda, voi ce l'avete mai pensato a questa cosa? Il corpo Gesù, il suo corpo umano, da chi l'ha preso? Solo dalla madre. Io somiglio più a mio padre che a mia madre. Noi siamo tutti quanti figli di papà e di mamma. Quindi il mio corpo, sappiamo dalla scienza, che è preso un po' da papà, è il po' da mamma. Ma il corpo di Gesù è preso soltanto dalla mamma. Quindi, lo sapete, quando facciamo la comunione, noi entriamo anche un pochino in intimità con la Madonna in persona, perché il corpo di Gesù è che era dalla madre. Cioè, tutto un filone della letteratura, sapete che a Napoli, nel XVII secolo, facevano degli ostensori enormi. Sapete come erano fatti? C'era una statua della Madonna con il cuore aperto e lo ostensore praticamente stava all'altezza del cuore della Madonna. Quindi l'Eucaristia, tu la vedevi all'altezza del petto della... È bellissimo. È bellissimo. È proprio così. Qualcuno, adesso non mi ricordo, dove ho letto, ma ho letto questa informazione, dicono che la Madonna in cielo, ce l'ha ancora. Cioè, sul petto, ci ha piantata un'ostia consacrata. Per far capire questa relazione strettissima che c'è tra Maria e l'Eucaristia. Quindi ogni volta che andiamo alla Messa, stiamo con la Madonna, non sono due cose che stanno in contrapposizione. Anzi, la Madonna ci facilita e ci agevole il rapporto con Gesù Eucaristico e con tutti i sacramenti, perché è lei che gli ha dato la natura umana. Quindi come ha svolto questa funzione di tramite al Verbo di Dio per farsi carne, così avvicina noi ai sacramenti in cui l'azione sacrifica di Gesù rimane riva ed efficace. Quindi la ringraziamo, con queste disposizioni ce lo diamo alla Santa Messa di oggi e continuiamo a vivere bene il mese di maggio in unione appunto con Maria attraverso il Santo Rosario e con Gesù Eucaristia attraverso la Santa Messa. Siamo notati Gesù e Maria. Siamo notati. Grazie a tutti.